Oggi pomeriggio a partire dalle 14 è in programma una manifestazione con corteo da Piazza dell'Esquilino a Piazza Madonna di Loreto nei pressi di Piazza Venezia. Saranno possibili deviazioni o limitazioni per 13 linee di bus. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile Ostiense. Il tracciato andrà dalla Basilica di San Paolo a Piramide attraversando via Ostiense per una lunghezza di 2 chilometri e 100 metri. L'obiettivo dell'amministrazione è favorire l'intermodalità degli spostamenti collegando due hub fondamentali del trasporto pubblico che si trovano lungo la linea B della metropolitana, Piramide e San Paolo. Per saperne di più, romamobilità.it